Cento anni fa, 200 anni fa, se si spargiva un po' di birra per terra, rimaneva sporco, non era un grosso scandalo come oggi, ok? No, ma ancora oggi. Eh? Un po' di buona? Perfetto. Se il pub non c'è della birra per terra, non è un pub. Quindi, continua a pulire e me lo scalda, sta già diventando tiepido. Questo è come se si scaldava un drink, 200 anni fa. Dopo il signor Whirlpool ha inventato il microonde, e quindi hanno tutti tolto il cammino dal bar e sono messo i microondi. Questo era come se si scaldava un drink, parecchi anni fa. Questa era anche una cosa un po' divertente da fare oggi.